Signora Coriandoli. Guardi, io la ringrazio, il signor Alfa. Signor Andrea, Andrea, signor Alfa, Andrea. No, vabbè, perché mi fa venire in mente l'episodio, perché è di mezzo un Alfa Romeo, mi viene in mente l'Alfa Romeo. Lui non c'entra niente con l'Alfa Romeo, comunque va bene. No, guardi, è un episodio d'amore. Alfa le fa venire in mente un Alfa Romeo. Mi fa venire in mente l'Alfa Romeo, perché l'Alfa Romeo era la macchina di Roldano, il marito della Nive. Sa cos'è che mi fa paura di questo inizio? Era, era, mi fa paura l'imperfetto, era la macchina di Roldano. Allora, si dice, cos'è, il passato storico? No, è un imperfetto, ma fa niente. Comunque, questo Roldano appassionato, è un vero uomo, appassionato di macchine, aveva l'Arna. L'Arna, l'Alfa. L'Arna è un Alfa Romeo dell'82. Ne ho fatte poco, poche, 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 poche. E dicevano, è un motore molto indovinato. So, diciamo che ci sono voci contrastanti. Loro, quando fanno le macchine, fanno un po'. No, non è vero, l'Alfa è un capolavoro, sono delle macchine di capolavoro. L'Arna, diciamo, fate un po'. Ecco, lui è appassionato della benzina, gli piaceva l'odore della benzina, il rombo, un vero uomo. Lei invece, la Nives, la moglie Nives, malata per l'ecologia. Sì. Specializzata nella differenziata, il vetro chiaro, il vetro scuro. E le pile, tutte diverse nel cellofanico. Tutto ecologico. Pensi che una delle poche che raccoglie ancora la stagnola per comprare il cane ai non vedenti. Eh, vabbè, brava, brava. Una cosa... E quindi era contraria ai motori. Ha detto, prendi l'auto elettrica, perché andiamo nella ZTL. Lui cociuto è stato sempre un carattere che ha il suo carattere. Ha il suo carattere, non vuol dire. Hanno litigato, io la macchina non la venderò mai. Bravo, bravo, carattere tenace. Tenace. Dopo viene il compleanno di lui, di Roldano. Come Roldano Lupi, si ricorda quell'attore di... Guarda l'appo come è interessato. E allora dice, da sola dice, gli voglio fare l'auto elettrica senza che lo sappia. Dopo, sotto casa, ci sta un meccanico anziano, che è in pensione, un anziano. Ha detto, mi elettrifichi l'arna? Come si fa? Ha detto, no, non me ne intendo. Ma non farci il modetto, lei la fa. Ma è pericoloso. Senza cambiargli la macchina che se ne accorge, gli fa elettrificare l'arna. L'arna è una macchina che come la giri dà tante soddisfazioni. Andava come un orologio, quando andava. E dopo va dal meccanico di notte, lui ha preparato tutti i fili a posto, il rosso, il giallo, ha fatto tutto, solo che ha detto, adesso a ricaricarla, ci vuole due giorni, ma domani è il compleanno! Dariq si chiama, lui si chiama ancora, il meccanico Dariq, la fortuna ha avuto che attaccato alla casa loro c'era il palo dell'alta tensione, il traliccio, sono pericolosissimi. Allora, lui è bravo, questo Dariq è un fenomeno, ha fatto tutto l'attacco, in 12 minuti si è caricata la batteria, allora non ha detto niente all'Inel, però avrà rubato 300 e anche meno, non sono pratica. Dopo, in cataletto ha visto il marito Roldano la mattina, che si è alzato prima di lei, è salito in macchia, lo guardava e ha detto, ma ci sono ancora i fili attaccati e dell'alta tensione! E gli faceva! Come gli faceva? Perché sta al nonno piano, faceva così. Lui non è mai stato un fenomeno, faceva ciao, ciao! E pover' uomo, non ho piano, come fa? Allora, quando ha girato la chiavetta, si è sentito un lampo, pensavano fosse scoppiato un fu, una botta del tuono, e poi quel rumore che d'estate, quando ci sono le balere, c'è pure quella cattura zanzare, come c'è? Quella mattinetta per le zanzare! Quello delle zanzare! Quello schiocco, che 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 così! Dopo, quando è andata via questo fumo, la macchina era vuota, non c'era nessuno! No, c'era un po' di fuligine sul cruscotto, sul sedile! Ma pover' uomo! La macchina non si è fatta niente! Ho capito! Lui, ascolti, una fine così non se la poteva sognare, in un lampo, sembrava Las Vegas, i maghi! Cioè dice fortunato! E' stato molto fortunato, perché si è immolato per la moglie, per questa bella macchina, dopo lei la usa per la ZTL, va che vola, ha dovuto levare un po' di quella fuligine, un po' quella polvere, sapeva di zanzare, non so il motivo! Sapeva di zanzare, quindi tutto è bene, tutto è bene quel che finisce bene! Bravo!